Iniziate le consultazioni per la formazione del nuovo governo greco. Il leader del partito di destra, Nea Democrazia, Samaras, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica l'incarico di formare l'esecutivo. Già dalla scorsa notte, con le prime telefonate fatte da leader al vincitore delle elezioni, si è parlato della questione. Oggi inizia la procedura prevista dalla Costituzione ellenica per la formazione del nuovo governo. Al termine di un incontro con Samaras, il leader del partito della sinistra, Siriza, Alexis Tsipras, ha dichiarato che Siriza non entrerà a far parte del governo di coalizione. Il leader di Nea Democrazia, Samaras, dal canto suo, ha dichiarato che abbiamo bisogno di un governo di unità nazionale che comprenda il maggior numero di partiti possibili. Tsipras non vuole farvi parte. Assolutamente. 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 Assolutamente.